Notte di fuoco, l'ennesima lungo le strade della periferia licatese. Teatro dei Roghi, stavolta è stata via Torregrossa, arteria di collegamento urbano tra via Campobello e l'agglomerato residenziale di Piano Cannelle. Due gli incendi divampati nel cuore della notte tra lunedì e martedì. Nel primo caso, ad essere presa di mira, è stata una Fiat Punto di colore grigia parcheggiata sul ciglio della strada. Il fuoco ha lesionato la parte anteriore del mezzo, mentre la parte posteriore si è conservata integra quasi del tutto. Sul posto, allertata da una chiamata alla centrale operativa, si è portata una squadra dei vigili del fuoco del locale di staccamento di Corso Argentina, che ha spento le fiamme. Sul Rogo indagano i carabinieri della compagnia di via Salvo d'Acquisto, intervenuti in via Torregrossa per eseguire i primi rilievi di rito e per avviare le indagini. Il secondo Rogo, a distanza di poche decine di metri e di pochi minuti, in questo caso ad essere aggredita alle fiamme è stata una batteria di cassonetti per la raccolta della spazzatura. Anche in questa circostanza, vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere e domare l'incendio. Due episodi avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro che fanno supporre che la mano incendiaria possa essere stata la stessa.